Ambiente Servizi è una società di raccolta e trasporto rifiuti che opera nella provincia di Prodenone, serve attualmente a 23 comuni che sono anche soci, è una società in house, fa delle raccolte porta a porta della carta plastica secolo riciclabile, l'umido e il vetro sono le uniche raccolte che vengono fatte con bidoncini stradali da 240 litri, tutto il materiale che raccoglie viene conferito alla sua controllata Ecosinergie. Ecosinergie è una società consortile a responsabilità limitata, la proprietaria è Abiente Servizi S.P.A., Ecosinergie si occupa del trattamento dei rifiuti solidi urbani conferiti da Ambiente Servizi. Questa società è nata nel 2012 sulla forte volontà di Ambiente Servizi al fine di creare l'anello di congezione tra le raccolte porta a porta e la valorizzazione finale dei rifiuti. L'obiettivo di Ecosinergie è di valorizzare al massimo i rifiuti raccolti, un dato per tutti è che su tutto il materiale che entra in Ecosinergie solamente lo 0,5% va in discarica. La palla del nostro impianto viene utilizzata per carico del camion, movimentazione dei materiali, pulizia dei preziali. È molto agile, noi abbiamo bisogno di lavorare anche in spazi abbastanza stretti e la macchina si completa bene. Velocità dei movimenti, tipo uno scarico della benna, molto veloce, cabina molto spaziosa, visibilità ottima, comodo sedile, si può lavorare anche dietro a ore di seduto, non hai fastidio alla schiena, comandi semplici, intuitivi, portata di occhio. Abbiamo notato anche che a qualità di lavoro la macchina consuma molto meno rispetto a altri macchinari. È dotata di benna di 4,5 cubi ad alto ribaltamento, questo consente è di migliorare le tempistiche di lavoro. Nonostante l'elevata capacità della benna, la macchina è molto stabile e non ho problemi di ribaltamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.